non è andata bene, non è andata bene però siamo sempre i campioni d'Italia non è lontano, ci vediamo giovedì, tra due giorni pensavamo di chiudere stasera il campionato, sarà tutto rinviato sì, però era più bello festeggiarlo oggi, perché era tutto organizzato, la città in festa invece è nostra, ci vediamo mercoledì giovedì tanto amarezza, che vogliamo fare, se ne parla la settimana prossima no, non vuole, diritto ha fatto la partita della vita, la salernità, andrà in 0 e 5 sempre forza Napoli va bene, va bene, va bene, ci ripariamo, ci ripariamo, con calma vediamo giovedì, ti aspettiamo giovedì, ti aspettiamo con calma, con calma non è adesso, è la prossima, non vi preoccupate, non è successo niente vi mangio le mandorle alla salute dei fusi napoletani non fa niente, ci ripariamo giovedì mi fa grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.